Blitz al cantiere dell'ex Uba Uba, volantini polemici e scritte anonime all'edificio in fase di smantellamento a San Concordio. Chiareggio, Carnevale, ecco i bozzetti presentati alla cittadella e i progetti per i carri della prossima edizione della manifestazione. Il maggio che racconta l'Orlando Furioso, a Montalfonso la rappresentazione di Ginevra di Scozia che fa rivivere le gesta dell'eroe di Ludovico Ariosto. Lo sport, la lucchese prende anche il giovane Florio alla corte di Galderisi, un altro ragazzo che vantaggia 32 presenze tra i professionisti. Il diareggio del beach soccer tra presente e futuro dopo la vittoria dello Scudetto per i bianconeri è il momento di bilanci e scelte per il futuro. Ben trovati a questa nuova edizione del TG Noi che apriamo andando a San Concordio al cantiere dell'ex Uba Uba, edificio in fase di smantellamento. L'altra notte c'è stato un blitz di persone anonime che hanno lasciato volantini polemici e scritte. Vediamo. Sono iniziati i lavori di smantellamento dell'edificio ex Uba Uba a San Concordio e l'area esterna ai lavori è già stata oggetto di un blitz di un gruppo di persone rimasto anonimo che nella notte hanno affisso volantini polemici nei confronti della destinazione commerciale dell'area ed hanno anche realizzato una vera e propria installazione con tanto di finta palla da demolizione e transemme. Infine è stata anche realizzata una scritta spray che però non si sa a chi sia riferita. Nei volantini viene ricostruita la storia dell'edificio in stato di abbandono da vent'anni. Al posto dell'ex Uba Uba dovrebbe sorgere una struttura sempre a fini commerciali, ma gli anonimi estensori del documento parlano di pericoli di corruzione e speculazioni, senza però specificare niente su tali accuse. Tra l'altro un simile blitz era già stato portato a termine sempre in maniera anonima in un altro edificio in stato di abbandono della periferia lucchese, l'ex Colged a San Filippo. Ambedue gli edifici nel corso degli anni sono diventati temporaneo rifugio di senza tetto e il loro abbandono ha più volte suscitato allarme. Tra l'altro sia all'ex Uba Uba che alla Colged sono anche scoppiati incendi che avrebbero potuto costituire un pericolo per gli edifici vicini. Ci spostiamo a Viareggio, alla cittadella del Carnevale, sono stati presentati i bozzetti per l'edizione 2017 della manifestazione. Sentiamo Massimo Mazzolini. Una maschera nera sugli occhi, una manciata di coriandoli che diventano quasi lentiggini, delle strisce filanti che paiono riccioli, due grandi e sensuali labbra che recitano. Carnevaliamo a Viareggio. Questo è il manifesto ufficiale che promoverà il Carnevale ovunque e mai come quest'anno gli artisti con le loro opere sono in sintonia con il manifesto ufficiale firmato dall'artista ultracentenario Giorgio Michetti. I mali e i vizi dell'Italia, i problemi che affliggono l'umanità, sono messi a nudo sulle opere d'arte del Carnevale. I temi dominanti dei carri spaziano dal costume all'attualità, dalla politica nazionale a quella internazionale. Martedì sera, alla cittadella strapiena di appassionati di Burlamacco, sono stati presentati i bozzetti di tutte le costruzioni in concorso. Stasera presenteremo i dieci progetti della prima categoria. Renzi sarà presente solo in un carro grande, quello di Politi Borri. Il tema è quello delle pensioni. Accanto a lui il presidente IMSS Boerio. Alessandro Avanzini torna a parlare di migranti, ma anche di nuove frontiere. Per la prima volta appare anche Donald Trump, scelto dai fratelli Uberto e Stefano Cinquini. Nell'America, al voto, c'è chi si batte per la difesa del diritto costituzionale e il porto delle armi da fuoco. Il surriscaldamento del pianeta sta mettendo in serio pericolo i ghiacciai dei due poli. I primi a risentirli sono gli orsi bianchi, tema ambientale per Carlo Lombardi. L'avanzata del più grande paese orientale, la Cina, è ormai culminata nella trasformazione di Wall Street in Chinatown Street. La ricostruzione è firmata da Roberto Vannucci. Franco Malfatti, nel suo progetto, si chiede se un domani l'uomo fosse costretto a fuggire in un altro pianeta. Che cosa farebbe? Montagne di scartoffi e cartolari documenti, ovvero la giungla delle leggi che mette il nostro paese in ginocchio. Autori del carro, la compagnia del carnevale. Il vincitore del 2016, Fabrizio Galli, punta sulla speranza di una rinascita nel segno della bellezza. La ricerca di se stessi è il tema affrontato nella costruzione dei fratelli Luigi e Uberto Bonetti. Infine, Massimo Breschi, vincitore nel 2015, che identifica la vita in un carrozzone che procede con mille difficoltà, causa l'avidità dell'uomo. Adesso sentiamo le interviste realizzate a margine della serata, sempre da Massimo Mazzolini. Biglietti d'ingresso al carnevale meno cari a seconda delle date dei corsi mascherati. Questa è la buona notizia annunciata martedì pomeriggio dalla Fondazione. I tagliandi di entrata avranno lo stesso prezzo dell'anno passato, cumulativi compresi, mentre per i biglietti ordinari della prima sfilata, 5 febbraio, e dell'ultima, quella del martedì grasso di chiusura, è previsto un ribasso di 3 euro a tagliando. Quindi 15 euro anziché 18. Tariffa piena per le altre sfilate. Un'altra buona notizia arriva sul fronte dei finanziamenti. La Regione, ha detto la Presidente Marcucci, ha erogato il finanziamento promesso da un milione a fine luglio e ha confermato lo stesso importo anche per l'edizione 2017. Soddisfazione per la qualità dei bozzetti è stata espressa dalla Presidente. Momento importante, quest'anno lo facciamo fortunatamente abbastanza in avanti nel tempo e quindi abbiamo modo di dare promozione. Hanno fatto un lavoro meraviglioso i ragazzi. A fare da Cicerone al commissario prefettrice del Comune di Vereggio, dottor Fabrizio Stelo, martedì pomeriggio è stata proprio la Presidente del Carnevale, Maria Lina Marcucci. Il commissario non aveva mai visto la cittadella e neppure i carri. Allora, il Carnevale è Viareggio, nel senso Viareggio fuori da Viareggio è famosa per tante cose, non so se soprattutto, ma moltissimo ovviamente per il Carnevale. Il Carnevale è famoso in Italia e nel mondo. Visitando si vede proprio la maestria, si vede la passione, la fantasia, l'irriverenza, la voglia di stupire ogni anno con effetti speciali, insomma con effetti nuovi. La platea, insomma, la platea, quella che fisicamente viene qui e quella che invece se lo gusta in televisione. Ci spostiamo in Garfagnana, si arricchisce il percorso naturalistico e turistico del bioparco bioparco di Vagli di sotto. Sentiamo. Il ponte sul lago e il bioparco di Vagli rappresentano il nuovo traino turistico di questa estate 2016 in Valle del Serchio. Da oggi il percorso naturalistico è caratterizzato dalla presenza di tabelle o cartellini che descrivono con precisione le piante spontanee che si incontrano lungo il tracciato. Il lavoro di ricerca e messa in opera è stato realizzato dall'associazione culturale Il Cerchio delle Pietre, sotto la spinta del primo cittadino di Vagli, Mario Puglia, in modo da dare un qualcosa in più ai visitatori. Noi abbiamo dato in mano la situazione a un'autoropata importante come Marco Pardini e crediamo nella sua professionalità nel catalogare tutte quelle che sono le piante e le erbe di questo territorio. A Marco Pardini, direttore del bioparco, chiediamo quali piante possono osservare i visitatori che percorreranno il sentiero che costeggia il lago di Vagli e che porta al ponte a funi sospese. I turisti, gli interessati alle piante, ma anche i semplici curiosi, potranno trovare in questo anello che è poi il bioparco di Vagli una serie di piante che crescono rigogliose in questa zona anche per la presenza lacustre e anche per la sua esposizione. Piante che sono tipiche della zona puana, piante che abbiamo utilizzato nella tradizione popolare, quella di una medicina di campagna, la medicina delle famiglie, troveranno una serie di piante che crescono prevalentemente in questa zona, ancora per molto tempo potranno essere visitate con cartellini esplicativi dove daremo delle note. Rimaniamo in Garfagnana, andiamo a Castelnuovo, a Montalfonso c'è stata la rappresentazione di un maggio che racconta le gesta dell'Orlando Furioso. All'interno delle celebrazioni per i 500 anni dell'Orlando Furioso non poteva mancare un maggio che facesse rivivere le gesta raccontate dal Ludovico Ariosto. L'opera rappresentata domenica scorsa nella fortezza di Montalfonso dal titolo Ginevra di Scozia è stata riscoperta alcuni anni fa da Pier Giorgio Lenzi. È un maggio il cui manoscritto è stato ritrovato da me nella frazione di Colle nel comune di Castelnuovo di Garfagnana in occasione del tempo nel quale ho dedicato i miei studi per la preparazione della tesi sul dialetto nel comune di Castelnuovo di Garfagnana. Ginevra di Scozia, il maggio scritto da Giuliano Bertagni, un autore di Maggi di Vagli Sopra, fa rivivere le gesta narrate dall'Ariosto modificandone solo alcune parti e con piccole variazioni nei nomi anche per facilitare il canto. Il maggio Ginevra di Scozia è stato poi pubblicato nel quadernetto numero 62 per conto del Centro Tradizioni Popolari della provincia di Lucca guidata dal professor Gastone Venturelli, prematuramente scomparso. A cantare alcuni maggianti delle compagnie di Filicaia, Gragnanella, Casatico e Piazza Alcerchio, guidati da Pier Giorgio Lenzi. Davanti ad un pubblico attento hanno cantato le gesta eroiche, le battaglie e i tradimenti secondo quell'antica tradizione che normalmente animava i paesi di tutta la Garfagnana nei mesi estivi. I maggianti nel passato si esibivano dove capitava, nelle aie, nei pressi dei paesi, spesso proprio al fresco dei castagni. Vedere questa compagnia all'interno della fortezza estense è stato davvero molto suggestivo e rievocativo. Il canto del maggio è sicuramente una tradizione che noi dobbiamo riprendere. Il fatto che lo abbiamo riproposto qui nella fortezza di Monte Alfonso legandola alle celebrazioni ariostesche è indubbiamente una cosa molto suggestiva. Tutto per la prima parte, adesso c'è la pubblicità e subito dopo lo sport.